massimo giletti uno dei volti più noti della televisione italiana da quasi 30 anni ha attraversato diverse fasi della sua carriera da mixer a domenica in fino all'arena nonostante le difficoltà della sua nuova avventura in rai giletti continua a far parlare di sé anche per la sua vita privata su cui ha sempre mantenuto una certa riservatezza tra le sue relazioni più note quella con antonella clerici negli anni 90 ma giornalista sportiva con cui ha avuto una storia d'amore che si è conclusa a causa della volontà della conduttrice di avere figli a cui giletti non era pronto nonostante la rottura i due sono rimasti in ottimi rapporti e giletti ha dichiarato di aver amato profondamente antonella negli anni successivi giletti ha avuto una relazione con la deputata del partito democratico alessandro moretti e nel 2017 si è legato alla modella svizzera angela tuccia attualmente la situazione sentimentale di giletti rimane avvolta nel mistero anche se si è vociferato di una relazione con lasciatrice sofia goggia nonostante la sua età giletti ha dichiarato di essere aperto alla possibilità di sposarsi e avere figli cambiando idea rispetto al passato nella mia vita c'è qualcuno e me lo tengo stretto ma non ho mai raccontato la mia vita privata ammesso il giornalista massimo giletti con la sua lunga carriera televisiva e le sue vicende sentimentali continua a incuriosire il pubblico e c'è il centro c'è il centro